Non vietare ma organizzare. L'ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano, interviene nel merito del Ferragosto a San Leone. L'intervista al Videogiornale. Io credo che in questo Ferragosto si sia celebrato una marcia funebre. Abbiamo assistito ad un funerale, cosa che non era mai successo perché Ferragosto è una festa. Sono le cosiddette ferie agostane che duemila anni fa proprio Augusto dava le cosiddette ferie. È facile vietare. Basterebbe dire chiudiamo San Leone per sempre, chiudiamo anche Agrigento per sempre. Governare è una cosa diversa. Io ricordo da ragazzo scendavamo con la famiglia a Ferragosto a mare a mangiare la pasta a forno. Mio padre aveva un carretto ai tempi, mi ricordo siamo tra gli anni 50 e gli anni 60. Poi metteva una tela tra le due barre che tengono il carretto e stavamo fino a tardi. Poi ragazzi rimanevamo sulla spiaggia per fare il falò di Ferragosto. A mezzanotte accendavamo quelle cataste di legna che esprimono per quella festa la luce, l'assunta in cielo e poi il bagno che rappresentava il bagno purificatore. Per noi ragazzi anche se l'acqua era fredda a quel tempo non si sentiva. Certo, a quel tempo poi lasciavamo tutto così com'era, con i legni non ancora spenti, la cenere. Ebbene bisogna anche organizzarsi. Anche per me fu un grosso problema. E l'abbiamo risolto. Risolto come? Ci siamo messi d'accordo con la forestale. La forestale ci fornì e ci forniva ogni anno un camion di legna. E noi facevamo da 50, 60, 70 falò. E la gente si riversava tutta, non solo i cittadini di Agrigento, ma da tutta la provincia. Venivano in questa nostra bellissima spiaggia, che è stata deserta ovviamente per la notte di Ferragosto. E tra le mangiate, tra i falò e l'intomani mattina, diecine e diecine di netturbine ben organizzate. Ovviamente qualche divieto c'era. Io ricordo che avevamo vietato di portare le birre in bottiglie di vetro, perché sicuramente qualche incivile c'è sempre. L'intomani mattina alle 5, squadre di operai ecologici pulivano tutta la spiaggia, dopodiché passava la pulis spiaggia e tutto rimaneva pulito. Problema di organizzazione. Vietare le feste che vanno dal Trentino, dall'Alto Adige, dove si accentuano anche lì i falò. Non parlo della gioceria, non parlo del Lazio. Certo, nel Lazio da Ostia in poi, tranne Capalbio, che sono intellettuali. Ma gli intellettuali, leggevo qualche tempo fa, che per vedere i falò, gli intellettuali che andavano a soggiornare, a fare le vacanze a Capalbio, la notte di Ferragosto si spostavano verso Ostia, verso altri lidi, dove c'erano i falò, perché era una festa di popolo, era una festa che nessuno può cancellare. Sarebbe bello dire che la città la vogliamo pulita, non si butta più la spazzatura, mangiamocela. In conclusione vorrei dire che questo ambientalismo esasperato, esagerato, produce soltanto danni. Li produce al cittadino, ma li produce anche agli operatori commerciali, che secondo me saranno esasperati da tutto quello che è successo. Speriamo in bene per il prossimo Ferragosto. Speriamo in bene per il prossimo Ferragosto.